Il cuore batte forte, la tensione sale, un colpo può valere la stagione. La primavera del volley è iniziata, si decidono i campionati e Piemonte Volley Online è sempre al vostro fianco per permettervi di vivere al meglio ogni momento del nostro sport. In questo numero tutti i risultati dei campionati, con notizie, curiosità e immagini dalla Serie D alla Serie A1 con il programma dei play-off scudetto femminili che inizieranno sabato prossimo. Le notizie abbondano in questo numero, ma anche le opportunità dal Piemonte al resto del mondo. Scopri il corso per diventare addetti stampa sportivi create dal Comitato regionale, in esclusiva per le società del Piemonte e i loro collaboratori. E infine, come va l'avventura delle piemontesine Giorgia Zannoni e Marina Lubian al campionato europeo Under 18? Non perdere tempo, entra nel tuo tablet o smartphone e augura con noi buon compleanno a tutti i tesserati nati dal 1 al 7 aprile. PVO, il volley vive qui!